APK sta fornendo a Gruppo Cap 20.000 dispositivi per la telelettura di contatori già esistenti a campo, quindi la smartizzazione di contatori già esistenti. In situazioni come queste servono soluzioni tecnologiche aperte, standard ed universali. Il contributo di APK a questo mercato è in questa fase del mercato principalmente questo, fornire alle utilities soluzioni universali che operano su rete NB-IoT, standard, cellulare. La soluzione APK è ad oggi la più avanzata disponibile per questo tipo di applicazione. Il gruppo Cap si è organizzato per portare avanti un importante piano di revamping dei contatori esistenti, sono circa 170.000 unità che sono state cambiate nel triennio 2017 fino al 2020. Lo scopo è quello appunto principale di ottemperare il DM-93 e quindi non avere più contatori più vecchi di 10 anni e dall'altra parte innovare cambiando tecnologie andando verso lo smartmetering che permette appunto di ridurre i tempi di rilievo dei contatori, avere misure più precise e quindi migliorare completamente il parco contatori. Parallelamente stiamo smartizzando tutti i contatori nuovi posati negli ultimi 5-6 anni con tecnologie tra le quali anche l'NB-IoT attraverso il sistema che ha realizzato APK rispondendo al nostro bando di gara.